I genitori devono stare da parte, devono sostenere i ragazzi per quanto riguarda ovviamente la pratica sportiva, ma devono lasciare che i ragazzi si divertano, questa roba non deve succedere. Si era appena conclusa la partita quando il padre di un baby calciatore ha rifilato uno schiaffo all'arbitro della gara, peraltro anche dirigente dei padroni di casa, finito al pronto soccorso con un taglio al sopracciglio. E' successo la scorsa domenica dopo la partita Ponte d'Ararezzo nella categoria esordienti regionali 2011, un grave episodio che si è consumato davanti agli occhi dei ragazzi a margine del match. Non possiamo consentire che succedano queste cose in ambiente soprattutto di scuola calcio, una roba che non deve succedere e anche serve questo forse anche per lo spunto, per dare un freno non soltanto ad episodi violenti, ma anche ad una serie di atteggiamenti che ovviamente non sono tollerabili. Cioè i genitori che anche durante la partita possano in qualche modo alzare la voce, intromettersi in queste cose, sono robe che non devono succedere. Per cui ho preso provvedimenti, nel senso che incontreremo i genitori del gruppo interessato, ma il messaggio va veicolato a tutti i nostri gruppi. Se questi episodi si dovessero ripetere, non soltanto violenti, ma anche aggressioni verbali, sono episodi che non verranno tollerati dalla società. Quindi ho detto e darò disposizione ai nostri tecnici per quanto riguarda soprattutto la scuola calcio, quindi i più piccoli, di ritirare la squadra nel caso in cui ci siano questi episodi di interperanza, perché sono robe che non devono esistere nel nostro settore giovanile.